Ciao e bentornati nel nostro showroom di San Zeno Naviglio. Oggi vi presentiamo la nuova Renault Rafale. La nuova Renault Rafale è un SUV coupé dall'aspetto sportivo e con un design affusolato. Si distingue subito per le sue linee dinamiche. È infatti un tributo all'omonimo aereo costruito da Renault per le competizioni sportive. Rafale si ispira al mondo dell'aeronautica ed è dotata di tutti gli elementi che hanno riscritto la nuova linea Renault. La calandra è molto particolare ed è formata da questa serie di rombi, che ricordano il logo Renault, vernicati di nero, che creano questo effetto ottico. Da vicino infatti si vedono chiaramente, così come vediamo sbucare il colore della carrozzeria. Da lontano invece sembra che la calandra sia tutta nera e uniforme. Troviamo anche qui i nuovi gruppi ottici affusolati con questo design squadrato e aerodinamico. Subito sopra questa bombatura sul cofano che parte dai fari e si congiunge col montante laterale. Immancabile poi il nuovo design delle luci diurne. Infine troviamo la griglia inferiore accompagnata dallo splitter e da questi baffi alle estremità del paraurti, che sottolineano il design sportivo. Lateralmente notiamo subito i cerchi da 20 pollici con un design molto ricercato e particolare. Che dire poi, il suo profilo slanciato e lineare dà piacere ai nostri occhi. Notiamo poi due badge, questo che indica l'allestimento presente sul nostro esemplare, ovvero le spray alpine. E infine questo che indica la presenza delle quattro ruote sterzanti. Passiamo al posteriore di Rafale, dove si esprime tutta la sua forma coupé, partendo dal tetto spiovente e arrivando ai due spoiler. Uno sopra l'1-8 e uno incastonato nel portellone del bagagliaio. Concludiamo poi con i gruppi ottici, che hanno un design unico, formato da diversi elementi. Rafale è disponibile in 5 colorazioni, bianco, nero, rosso, blu e grigio, con la possibilità di avere l'abbinamento con il tetto nero. Passiamo ora agli interni, che sono moderni e di una qualità molto elevata, così come abbiamo già visto su Megane Tech e sulla nuova Scenic Tech. Troviamo quindi anche qui il dashboard Open R, con una superficie ad alta definizione di 984 cm2, includendo anche l'adapt display. È distribuita su due schermi ed L da 12 pollici e ha un'interfaccia molto fluida e coinvolgente. I sedili in questo allestimento Esprit Alpine, come potete vedere, sono sportivi, composti in ecopelle e alcantara. Molto bello e particolare il logo che si illumina. Molto bello anche il volante, caratterizzato da una corona tagliata nella parte superiore e inferiore, dove troviamo un rivestimento in alcantara. Troviamo poi una striscia LED ambientale, che percorre tutto l'abitacolo del veicolo, inclusa le portiere posteriori. Sempre nelle portiere troviamo questa scenica moquette blu, molto bella. Negli interni poi troviamo le cuciture, che ricordano il tricolore francese. Infine, su questa versione, troviamo montato un sistema audio premium Armand Cardon, con ben 12 altoparlanti e con tanto di subwoofer nel bagagliaio. Anche qui è presente il grande tetto panoramico, dotato del sistema Solar Bay, con quattro modalità di opacizzazione. Altra cosa interessante qui dietro è il bracciolo Ingenius, molto elegante e comodo. Offre un vano porto oggetti, porta bevande, due porti USB e diverse configurazioni per inserire il vostro smartphone o tablet. Per quanto riguarda l'infotainment, a bordo troviamo il sistema multimediale OpenR Link, con l'integrazione di Google e Android Auto, molto reattivo ma compatibile anche con i dispositivi iOS. Google Play offre l'assistente vocale e più di 50 applicazioni, tra cui Google Maps, sempre aggiornato, con mappe, informazioni sul traffico e punti di interesse. Infine è disponibile anche qui il sistema Multisense, con quattro modalità di guida e 32 sistemi avanzati di assistenza alla guida. Passiamo al bagagliaio. In questa versione abbiamo di base 528 litri, ma diventano 1660 con il divanetto posteriore abbattuto. Rafale è disponibile in due allestimenti, Tecno ed Esprit Alpin. Sulla nostra Esprit Alpin troviamo la motorizzazione E-Tec Full Hybrid da 200 CV. Grazie per essere stato qui con noi alla scoperta della nuova Renault Rafale. Vi aspettiamo nei nostri showroom.